Ciao a tutti ragazzi, buon 6 di gennaio, ovviamente oggi siamo qui con la conferenza stampa di vigilia di Juventus Udinese ma prima di tutto, prima di iniziare, un po' come abbiamo fatto anche in conferenza stampa, volevo esprimere un pensiero per Gianluca Vialli che stamattina ci ha lasciati e io, un segno di rispetto lì dietro, come potete vedere di fianco alle maglie di Buffone del Piero ho appeso la maglia numero 9 di Gianluca Vialli, capitano della Juventus dell'ultima Champions League vinta nel 96 io non avevo ancora 4 anni in quella notte, sono nato nel 92, a luglio del 92, quindi ne avevo 3 qualcosa, stavo per compiere 4 ma quella sera ero a Roma, anche io, perché mio padre è andato a vedere la finale, mio padre credo che abbia visto quasi tutte le finali degli anni 90 dovevo andare anche a vedere quella con Liverpool all'Eisel, per fortuna non c'è andato perché quel giorno aveva l'esame di guida e sono sceso insieme a tutta la famiglia per andare a Roma e ricordo, mio papà ne parla sempre di Gianluca Vialli e anche oggi mi ha detto, fai il video con la maglia che sicuramente è qualcosa di bello e ho detto, papà ce l'ho già pensato, ma grazie per il consiglio non ho avuto la fortuna di vivere Gianluca Vialli come calciatore, proprio perché ero troppo piccolo quindi questione era grafica, ma lo ricordo bene come opinionista, lo ricordo bene nel percorso che ci ha portato a diventare campioni d'Europa nell'estate del 2021 e ricordo tutta la sua emozione nel festeggiare quell'europeo meritatissimo al fianco del suo compagno di sempre, Roberto Mancini e quindi dispiace, anche se non ho mai vissuto Vialli ho sempre apprezzato tantissimo l'uomo, la persona, purtroppo non il calciatore e sono le sfortune di nascere nei momenti sbagliati puoi solo recuperarti, video su YouTube sono veramente incredibili alcuni gol di voglia, di potenza, davvero di passione come ha detto anche Massimiliano Allegri oggi non ho mai vissuto le partite intere di Gianluca Vialli e di questo mi dispiace tanto cerchiamo di tornare a parlare di Juve e della partita che domani dovremo affrontare contro l'Udinese che secondo me sarà una partita che ci creerà diversi problemi Allì che dice, indipendentemente dallo stadio pieno abbiamo recuperato Di Maria, Paredes sta crescendo di condizione avrò Bremer un po' affaticato, ci sarà l'occorrenza Rugani pronto per giocare la formazione la valutare nel pomeriggio, dopo gli allenamenti devo fare delle scelte, l'Udinese è una squadra fisica sta facendo un ottimo campionato anche giocatori di qualità come l'ex Pereira che con noi, con me, ha fatto bene Beto attacca bene la porta vanno con tanti giocatori in area sarà una partita complicata come tutto la seconda può stare inizio stagione allora, l'Udinese ha avuto un impatto incredibile con la Serie A quest'anno e infatti dopo le prime giornate era posizioni altissime aveva anche battuto delle squadre che sulla carta dovevano essere superiori ne ricordo anche una sconfitta ai danni dell'Inter una vittoria dell'Udinese contro l'Inter in una partita tosta molto tosta corrono, corrono tantissimo non ho idea di come stiano ora post mondiale ma questa è una variabile che coinvolge un po' tutte le squadre e sicuramente con Bremer che non sarà della partita come ci ha fatto intendere Allegri un po' di preoccupazione devo dire la verità ce l'ho dice Sule fisicamente è pronto devo valutare se farà il quinto ha qualità più offensive ovviamente come trequartista o come taccante esterno ha tanta quantità non solo qualità sono contento di come lui stia crescendo ai giovani va dato tempo per crescere anche fisicamente infatti io tutte le volte che guardo Sule ho un po' di paura proprio perché è magro, 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 mingerlino non sembra un calciatore non è il fisico di un calciatore quindi credo che debba veramente mettere un po' di ciccia su quelle ossa e credo che la crescita fisica di Sule sia indispensabile per poterlo vedere effettivamente come calciatore prima squadra Juve e anche Allegri ce lo dice ovviamente non è un quinto in questo momento abbiamo bisogno lì un giocatore che che dà il meglio di sé vicino alla porta l'abbiamo visto anche l'altro giorno infatti io torno ancora a battere sul tasto del 3-4-2-1 che secondo me potrebbe essere una soluzione visti i centrocampisti a disposizione della Juve in questo momento ma soprattutto le mezze punte a disposizione della Juve in questo momento Alessandro dovrebbe rientrare sta bene tra Rugani, Alessandro e Daniele Gatti di questi 4 ne giocano 3 titolari quindi Bremer escluso proprio perché non era all'interno di questa urna Bonucci escluso perché sappiamo non sta ancora bene e forse c'è da farsi un segno della croce ragazzi secondo me Rugani gioca a questo punto perché l'ha detto Allegri dicendo se non gioca Bremer gioca Rugani e quindi mi immagino Rugani difensore centrale della difesa 3 e mamma mia e mamma mia Chiesa è entrato ha giocato quasi un tempo perché il tempo di recupero ora ha aumentato adesso ci sono 7, 8 quasi 10 minuti Chiesa ha fatto bene proprio fisicamente gli serviva una partita del genere alzando i ritmi sta crescendo di condizione non so se però può partire dall'inizio più si va avanti più ha minutaggio allora io di questo sono contento non rischierei Chiesa titolare in questo momento qua non ancora però l'ho visto bene anch'io è quello che vi dicevo nei video post partita l'ho visto bene anch'io aveva veramente bisogno questa è una frase perfetta secondo me di Allegri aveva bisogno di una partita in cui si alzavano i ritmi perché Conte farà partitella Conte farà allenamento ma quando è partita vera che devi alzare i ritmi Chiesa l'altro giorno gli ha alzati ha fatto quello scatto l'abbiamo visto tutti ve lo ho riproposto in mille salse quel tiro di rabbia di potenza e tante piccole cose dentro la partita quindi tanta tanta roba sono d'accordo non farlo ancora giocare dall'inizio io ho un po' paura però sicuramente sta crescendo e sta tornando quasi pronto al 100% e poi dice Ken si è presentato bene ha perso quasi 6 kg rispetto all'anno scorso ha una testa diversa sta crescendo e maturando anche in campo dove ha una presenza più pesante può giocare bene o male quello capita sempre ma in campo gioca partite diverse dallo scorso anno domani devo valutare se giocheranno lui o Milik o tutti insieme o si farà partire di Maria allora sì sono d'accordo su Ken che è diverso rispetto all'anno scorso l'anno scorso proprio non mi è piaciuto minimamente mai invece quest'anno tante volte abbiamo detto che sta facendo bene sta facendo bene infatti pensavo che potesse essere un titolare anche l'altro giorno dice Allegri domani devo valutare se giocheranno o lui o Milik quindi una sorta di come l'altro giorno 3-6-1 o 3-5-1-1 con uno tra fagioli Miretti dietro la punta che comunque fanno abbastanza centrocampisti come abbiamo visto nell'analisi che vi lascio comunque qui sopra nelle schede o se far partire addirittura di Maria sembra un po' audace la partenza di Maria però all'interno di questo discorso non viene citato Sule che Allegri dice devo decidere se partirà come quinto quindi per il momento per quanto Allegri sia consapevole che Sule sia più un attaccante non lo cita nei ballottaggi davanti ma lo cita nei ballottaggi sull'esterno quindi vediamo magari Sule ripartirà ancora una volta come quinto e poi Chiesa gli darà il cambio nella ripresa vediamo domani quadrado è impossibile in settimana potrà essere con la squadra lui decide Bonucci e Vlaovic nel giro di 15 giorni e Pogba dovrà averli con la squadra magari non tutti ma la maggior parte facciamo queste partite poi le verranno a disposizione oh meno male eh ragazzi inizia a essere abbastanza stancante l'elenco degli infortunati e capire quando rientrano poi dice ricordo personale di Viali è quello che lascia ai giovani giocatori l'espressione come interpretava le partite non solo tecnica ma anche cuore e passione poi io lo sapete ve l'ho sempre detto i giocatori con tanto cuore tanta passione quelli che in campo mi fanno vedere che davvero ci tengono mi fanno impazzire molto più di quelli tecnici Viali era anche uno che con i piedi non se la cavava maluccio quindi aveva tutte le carte in regola probabilmente come calciatore per essere uno di quelli di cui mi sarei potuto innamorare follemente piacerebbe rivedere un giocatore simile Gianluca Viali anzi chiedo a chi ha avuto la fortuna di poterlo vedere chi ricorda qual è un giocatore che può ricordare Viali nel modo di giocare a livello tecnico a livello di passione proprio come ha detto Massimiliano Allegri ecco poi qua c'è una cosa che dal titolo al video che non mi è piaciuta perché fino adesso meno male ci sono stati ragionamenti ci sono state valutazioni direi che non succede niente però qua c'è una cosa che non mi piace dice Allegri in questo momento le prospettive squetto non cambiano Napoli netta favorita con tanti punti di vantaggio e qui sono d'accordo io non credo che per una sconfitta sia necessario adesso rifare tutto il discorso no cioè bisogna anche essere coerenti no finché non cambiano più cose insieme si va avanti con il pensiero quindi per me il Napoli è la favorita lo dice la classifica è ovvio dice Allegri ha avuto un solo stop e ci sta ma stanno facendo un'annata straordinaria e sono i netti favoriti concordo al 200% poi dice noi vogliamo rimanere nelle prime quattro e giocarci poi le nostre chance in Coppa Italia Europa League ecco invece io questo no io questo no perché secondo me Napoli è la favorita numero uno ovviamente e la Juve in questo momento non può pensare allo scudetto alla lotta scudetto a entrare nella lotta scudetto non può farlo però non è che il nostro obiettivo è entrare nelle prime quattro e giocarci le coppe il nostro obiettivo è rimanere in sci al Napoli quanto più possibile cercare di fargli lo scherzetto tra una settimana e vedere che cosa succede perché in questo momento lo scudetto non si nomina non è naturale è assurdo pensare però il mio obiettivo diffuso la Juve non è arrivare quarto il mio obiettivo è comunque provare a vincere vedere che cosa succede mettere pressione dato che il nostro momento negativo in questo momento alle spalle vediamo se l'altra sera l'Inter possa aver aperto una micro crisi nel Napoli che magari anche domani non vince e poi c'è lo scontro diretto con la Juve dove si possa mangiare sei punti virtuali e se domani non ne fa altri tre diventa divertente quindi io lo so che Allegri non ci crede in questa cosa Allegri è lì che si sfrega le mani fa i conti è matto cia la lavagna e farà tutte le sottrazioni in colonna per capire quanto è scudetto quanto può perdere il Napoli dove li perde non ci crede neanche lui però queste cose secondo me non sono belle da dire cioè sentirsi dire noi vogliamo rimanere nelle prime quattro è brutto è molto brutto e quindi basterebbe semplicemente dire in questo momento non possiamo pensare allo scudetto però vediamo cosa succede anche perché abbiamo ancora due scontri diretti da giocarci che non saranno facili perché ho iniziato questo video dicendovi che sono preoccupato per l'Udinese però la Juve non può pensare di dire solo rimaniamo nelle prime quattro vediamo cosa succede l'evoluzione della stagione tre quattro mesi fa sembravamo morti sepolti perdavamo da tutti adesso dico che ce la giochiamo con tutti perché sarebbe esagerato però abbiamo fatto vedere anche a squadre come Inter e Lazio che si gioca anche ai nostri livelli quindi vediamo vediamo perché in teoria contro il Napoli mi aspetto una partita diversa rispetto a quella della Cremonese dell'altro giorno e domani forse anche con l'Udinese perché se fai la stessa partita che hai fatto l'altro giorno con l'Udinese c'è caso che esci con le ossa rotte quindi vediamo un attimino cosa succede e poi quei non ho capito perché Nerozzi gli fa una domanda su chiesa di Maria come quinti Allegri risponde una roba strana inizia a parlare di vecchia la destra giuro non ho capito niente quindi l'assalto a piedi pari secondo me Nerozzi gli ha chiesto ma chiesa può fare il quinto e lo può fare anche di Maria non ho veramente capito la risposta ha fatto una super cazzola incredibile e poi dice facciamo allenamento alle 4 e poi rimaniamo qui perché domani giochiamo alle 6 e poi gli fa una domanda interessante sulla gestione dei cambi e dice dipende dalla partita di solito cerco in primis di dare equilibrio a squadra se un centrocampista ha certe caratteristiche al suo fianco ne serve uno diverso e lo stesso ragionamento lo faccio anche in attacco dipende anche dagli avversari da quando giochiamo la prossima partita poi ovvio serve anche un po' di fortuna perché se vinci le hai indovinate e se perdi invece ci sono le critiche ma è una cosa normale faccio valutazioni formazioni fisiche e mentali allora sul discorso di come interpreta i cambi le formazioni allegri ci si potrebbe scrivere un libro e poi farci anche un film perché veramente ci sono tanti micro schemi che si ripetano perpetuamente in tutte le scelte però è interessante sentirgli dire certe cose vabbè queste sono abbastanza scontate e banali però so bene che ripeto allegri è matto secondo me allegri nella sua testa vede cose che noi umani non possiamo vedere è un fiume in piena avete presente proprio quando cede la diga e vroom viene giù la cascata dentro quella te io vorrei un giorno un giorno vivere nella testa di allegri per vedere quello che passa dentro perché veramente vede cose che noi umani non possiamo neanche immaginare e niente ragazzi ci vediamo domani per non so anche parlare un po' della probabile formazione domani mattina e poi ci vediamo in live ovviamente alle 6 perché poi si gioca e dobbiamo ricominciare tutta la serie di video ormai abbiamo già ricominciato abbiamo già preso il giro buon 6 di gennaio ragazzi un ricordo ancora una volta giuro che noi vi alli